Una location con diversi spazi e scenari a disposizione è l'offerta che vi propone la sala ricevimenti Ciccarone, da anni garanzia di successo per i vostri eventi. Avrete qui la possibilità di festeggiare le vostre nozze nell'ambiente più adatto, che contribuirà a creare la giusta atmosfera per un evento da favola. All'esterno, negli angoli affascinanti dei preziosi giardini della tenuta, potrete allestire il vostro banchetto durante la bella stagione, accogliendo gli ospiti in una cornice verde e romantica. All'interno avrete a disposizione le lussuose sale della struttura, anch'esse personalizzabili in base alle vostre esigenze di gusto e di capienza e con una scenografia in sintonia con il vostro modo di essere. Per l'organizzazione del vostro ricevimento, potrete contare sull'aiuto dello staff che collabora con la struttura e dei gestori, i quali saranno al vostro servizio per cercare di venire incontro a qualsiasi esigenza. Qualora lo desideriate, inoltre, potrete celebrare in loco la cerimonia di nozze, organizzando un romantico scambio delle promesse in loco. La specializzazione degli chef nella preparazione di banchetti per matrimoni vi regalerà una vasta scelta di pietanze da combinare in base ai vostri gusti con deliziose varianti per i vostri invitati con intolleranze alimentari e speciali abbinamenti divini. Situata alla terza in provincia di Taranto, la sala ricevimenti Ciccarone sarà lo scenario perfetto per festeggiare i momenti più allegri e importanti della vostra vita. Grazie a tutti!